Come distinguere il vero dal falso? Con un'attenta osservazione. Ma non è così facile. La contraffazione è ovunque. Come distinguere il vero dal falso? Semplice. Valutando le conseguenze. La moda. I beni di alta qualità. L'Europa rimane un punto di riferimento per questi settori. Un patrimonio di competenze e risorse da tutelare. I settori più colpiti. La moda. I beni di alta qualità. Un mercato depredato, indebolito. Si calcola che dal 2004 il settore europeo del tessile e accessori abbia perso un milione di posti di lavoro. La falsificazione ci costa davvero troppo. Il falso è un pericolo. Pensate ad esempio ai prodotti legati alla salute. Affidereste la vostra vita a un finto medico? No. E nemmeno noi. Un farmaco vi cura. Ma un prodotto contraffatto che non rispetti gli standard di qualità europei può essere fatale. La nostra economia si basa sulla capacità di innovare e produrre. E visto che i consumatori sono innanzitutto cittadini, dobbiamo rispettare le norme commerciali e di qualità. Il mercato nero priva le imprese e l'Europa dei loro introiti. Miliardi di euro sfuggiti al fisco. A causa della contraffazione perdiamo denaro, posti di lavoro e si creano rischi per la salute. La contraffazione non deve essere tollerata. Combatterla è una priorità per l'Europa. Più di 100 milioni di prodotti contraffatti sono stati sequestrati negli ultimi anni. È già molto, ma non abbastanza. La contraffazione costa cara alla nostra società e alimenta le reti criminali. Istituzioni, stati, consumatori devono unirsi per fermare questa piaga prima che sia troppo tardi. Prima che il falso l'abbia vinta. Tollerare la contraffazione significa uccidere la nostra industria, le nostre competenze e i nostri valori. Dobbiamo reagire perché meritiamo il meglio. La verità. No alla contraffazione. Scegli l'originale.